Il messaggio per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Francesco osserva che, per essere fedeli al progetto di Dio, la comunicazione diventa luogo per la costruzione del bene. Oggi si assiste tuttavia al fenomeno delle fake news, notizie false, che finiscono con il guadagnare visibilità. Chiaramente chi fa il servizio di giornalista proprio perché fa un servizio alla verità deve avere la capacità di scavare, deve avere la capacità di una ricerca critica, non può accontentarsi né della prima opinione, né del primo parere, né della prima apparente notizia. Il Papa propone un giornalismo di pace, che, sottolinea il Pontefice, non è un giornalismo buonista. Una riflessione attuale, anche per i media della custodia di Terra Santa. Il Papa nel suo messaggio dice che questo non vuol dire diventare buonisti, cioè manipolare il bene, ma offrire notizie buone significa alimentare la speranza. E nel caso della Terra Santa io direi che questo è particolarmente importante. Le notizie, per così dire, negative, anche quelle vere, vengono già offerte in abbondanza da tutti i mezzi di comunicazione e anzi direi generalmente sono le uniche notizie che vengono offerte. In esatta contrapposizione alle fake news o della diffusione solo di ciò che è negativo e della violenza, il giornalismo può essere strumento di pace e segnale di speranza. Noi, come giornalisti, dobbiamo concentrarci su argomenti e notizie al servizio della pace. Papa Francesco, nel suo appello ad aderire a un giornalismo di pace, riflette una visione molto profonda dell'importanza delle notizie e del ruolo svolto dai giornalisti. Tutto questo nasce dalla sua preoccupazione profonda per la sofferenza degli esseri umani, causata da persecuzioni e discriminazioni in un'epoca di crescente tirannia e di fenomeni di intolleranza ed estremismo. Il Christian Media Center è nato con la finalità di raccontare, annunciare la buona novella del Vangelo e ciò che accade qui. Quindi, oltre ai conflitti, le paure e le insicurezze, c'è una bellezza che deve essere mostrata. Esiste la vita in Terra Santa e, come dice Monsignor Pier Battista Pizzaballa, che era custode di Terra Santa nel 2008 e ha avuto l'idea coraggiosa di dare inizio al Christian Media Center, il CMC è nato per raccontare un'altra storia, la storia della bellezza dei santuari, con i pellegrini venuti da tutto il mondo, la bellezza delle comunità cristiane che vivono qui, con le loro sfide dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, un'altra storia che a volte passa inosservata a causa dei conflitti, di tutto ciò che di negativo accade. In esatta contrapposizione alle fake news o della diffusione solo di ciò che è negativo e della violenza, il giornalismo può essere strumento di pace e segnale di speranza. Credo che sia importante per alimentare la speranza che noi mettiamo in luce anche delle notizie che riguardano fatti molto piccoli, che per i media normali sono fatti assolutamente marginali, ma per noi questi fatti sono un segno di un possibile dialogo, di un possibile ponte che si riesce a costruire, sono il segno che la pace si costruisce non in teoria ma attraverso anche piccoli gesti e piccole scelte quotidiane.